I blocchi, un clamoroso, strepitoso gol di Murillo, uno dei gol più belli della stagione, una rovesciata straordinaria, Inter 1 Bologna 0, appena al 34esimo del primo tempo, capolavoro. Bellissimo, per coordinazione, per precisione, per forza, per scelta di tempo, complimenti, un gol stupendo. Tutto perfetto, scelta di tempo, acrobazia, può solo guardare da costa, meraviglioso. Altra caratteristica importante, ha preso la palla molto alta, è andata a prenderla veramente altissima. Ma vogliamo dire che lo fa un difensore centrale poi, se Vialli è un'immagine che mi viene in mente, potrei citarne altri, ma questa è veramente...